Ciao Marco, tra poco mi laureo e cercherò lavoro. È vero che l'azienda darà un'occhiata ai miei profili prima di lavorare con me? Eh sì, 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 già succede da anni in realtà, per cui dobbiamo sempre ricordarci che tutto quello che pubblichiamo online rimarrà lì per sempre, anche quando lo cancelliamo in realtà non è veramente cancellata quella foto, è dentro un database da qualche parte che se magari verrà in futuro rubato e quella foto potrebbe tornare in circolo. Quindi occhio a tutto quello che pubblichiamo, a come ci comportiamo e purtroppo sono molti ragazzi che sono visti rifiutare proposte di lavoro, offerte di lavoro, quando prima del colloquio chi si occupa della ricerca personale è andato a vedere le loro storie, è andato indietro magari di un anno o due nei loro social network e ha visto delle cose magari poco piacevole o poco adatte a quello che ritene che sia la giusta atteggiamento nei confronti dell'azienda. Insomma, quello che si fa online, a prescindere da dove lo si faccia, ha ripercussioni in tutta la nostra vita e sicuramente anche nel mondo del lavoro, quindi non che perdi.